Un po' tutte e due perché è un'arte bellissima che racchiude più discipline e poi proprio perché forse è anche più divertente rispetto al fatto di salire in palcoscenico cantare o ballare o recitare ecco, come mettere, salire in palcoscenico e trovarsi a ballare e cantare, recitare mentre si balla cantare mentre si recita, quindi è molto più colorato, più elaborato, più interessante, più elettrizzante quindi ritroveremo questi nuovi talenti in Galantria ma ci sono, ci sono, non abbiamo bisogno di ritrovarli, devono solo crescere certo, certo, e ce ne sono tanti speriamo di vederli presto, grazie a voi